Uniti tra proposte e proteste, i ristoratori salernitani guardano al prossimo periodo festivo con una serie di punti interrogativi legati al loro futuro ed in modo particolare alle disposizioni che saranno adottate dal governo centrale e regionale. Nel frattempo si intensificano le iniziative. Oggi una manifestazione in piazza Mendola degli organizzatori di eventi, mentre domani scenderanno in piazza diverse sigle che rappresentano il mondo della ristorazione. Saranno presenti anche componenti dell'Associazione Commercianti di Salerno che ieri hanno incontrato l'assessore al commercio Dario Loffredo consegnando nelle sue mani un documento programmatico. Nel documento si fa riferimento al fronte del mare, ad un progetto unificante per le orse aria esterne, una pista ciclabile ed anche di implementare il progetto di bike sharing con il supporto dei commercianti, oltre naturalmente alla richiesta di prorogare riduzioni sulle tasse come la Tarsu. Per quanto riguarda il settore cultura c'è anche un punto che riguarda luci d'artista e ancora una volta i commercianti chiedono di riprogrammare la prossima edizione appena possibile. Proviamo a programmare il futuro nonostante sia parecchio incerto, perché purtroppo a quanto pare il governo non ci consentirà di lavorare nemmeno a Natale. E quindi per carità, con tutte le prescrizioni bisogna ovviamente essere prudenti, però giustamente se saremo chiusi perdiamo una fetta molto importante. In Italia in generale, ma soprattutto a Salerno, perché per noi dicembre era un mese molto importante, a quest'ora non avrei sicuramente potuto fare questa intervista perché era impossibile. Allora diciamo che adesso aspettiamo che cosa decide del governo, anche se negli ultimi provvedimenti si tarano su un mese dell'anno. Pare che l'anno prossimo vogliano tararsi su tutto l'anno per i rissori. Noi abbiamo presentato anche le nostre proposte in prefettura, nelle nostre richieste e lì c'era una statistica che abbiamo preso dall'Issast per dire che le nostre verdite sono queste, non potete darci questo, perché ovviamente poi passa il messaggio sbagliato che noi ci siamo arricchiti con i rissori. Voglio dire, purtroppo non è così, a stento si riescono a recuperare le spese. Parlando proposte ma anche proteste, domani c'è in programma una nuova iniziativa che vedrà partecipare anche l'Associazione Commercianti organizzata e promossa da altre sigle che rappresentano ristoratori e commerciali. Sì, è giusto appoggiare anche gli altri che manifestano. Noi siamo orientati in questo momento verso una direzione costruttiva, però è giusto anche appoggiare gli altri che protestano perché comunque, come dicevo poc'anzi, i ristori sono minimi e poi essere anche obbligati, fra virgolette, a questo cashback e lotteria dei discontinui, è un po' un paradosso, è come essere accusati di una sorta di evasione fiscale. Io l'ho sempre accettato i pagamenti post, dal primo giorno che ho aperto ho sempre accettato e non ho fatto nessun tipo di problema. Quindi voglio dire, non ci facciano passare bene evasori, quanto i rimborsi sono stati minimi e per quanto abbiamo lavorato abbiamo ricevuto un rimborsato ad aprile e un rimborsato a novembre, basta. Un'ultima considerazione, quanto è snervante anche questo tire e molla, apri, chiudi, aperti, forse chiusi, è 18, 22, non dà la possibilità a voi anche di organizzarvi? Assolutamente no, non soltanto a noi della ristorazione ma anche ai commercianti voglio dire, perché noi della ristorazione per esempio abbiamo bisogno di una programmazione, c'è un collega che da giorni che dice ma domenica apriamo, ma domenica apriamo, io devo fare la spesa, devo chiamare i dipendenti, come fa ad organizzarsi? Poi apriamo per 15 giorni, l'avevo già detto nella scorsa intervista e poi chiudiamo dopo 15 giorni, ma quanta roba devo comprare? Io ho materiali non deperibili, quindi per il mio caso sono fra virgolette avvantaggiato, però un ristoratore come deve organizzarsi per lavorare 15 giorni?